Sarà una settimana ricca di riunioni e incontri, quella che si apre oggi, non decisiva ma sicuramente fondamentale per l'evoluzione degli scenari politici in vista delle amministrative leccesi del prossimo anno. Il Partito Democratico, forte della candidatura di Loredana Capone alle primarie contro Carlo Salvemini, ha iniziato la vera e propria campagna elettorale nella città capoluogo e presto anche in provincia. Nel pomeriggio in programma l'Assemblea Provinciale dei Democratici dove, all'ordine del giorno, ci sarà anche il punto comune al voto in cognita alleanza. Fra i centri più importanti nelle cese ci sono Tricase, Gallipoli, Casarano e Otranto. Sul Lecce il Partito Democratico continua a percorrere la propria strada parallela a quella tracciata dal tavolo del centro-sinistra. La stessa metodologia viene applicata da Italia De Valori e Federazione della Sinistra nel pomeriggio in programma una riunione, ma nessuna ipotesi di rottura. Lo conferma il coordinatore provinciale Francesco Dagata. È un percorso che abbiamo avviato da tempo, discutiamo di metodi e valiamo anche ipotesi di candidatura. Il tavolo del centro-sinistra è e rimane il nostro punto di riferimento e non intendiamo uscirne. Proprio il nome della dipietrista Sabrina Sansonetti è nella rosa dei papabili alle primarie. L'ultima parola però spetta al leader Antonio Di Pietro. Le vicende di governo hanno fatto slittare l'incontro, dice Dagata, lasciando intendere che Di Pietro non tarderà a farsi sentire. Terzo polo allargato e corsa solitaria, anche il centro si muove, alza il tiro e tenta Lambo sulla ruota di Lecce. In settimana i leader salentini dei partiti di Fli e Udc incontreranno il coordinatore di APL Paolo Pagliaro e Adriana Polibortone di Osud. L'obiettivo è rinforzare il terzo polo, esprimere una candidatura e sperare di arrivare al ballottaggio. Di certo c'è che al momento ipotesi di alleanze con il centro-destra e centro-sinistra non ce ne sono. A confermarlo è Paolo Pellegrino, coordinatore di Fli. Noi puntiamo ad allargare il perimetro delle alleanze, abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con APL e IOSUD. Mi sembra, prosegue, un buon inizio. La nostra ambizione è presentarci all'elettorato con un nostro programma, essere l'alternativa all'attuale centro-destra e anche al centro-sinistra. Le parole di Pellegrino non lasciano spazio all'immaginazione. La somma delle forze politiche sullo scenario leccese potrebbe rivelarsi un colpo di scena che, di sicuro, metterebbe in seria difficoltà le coalizioni avversarie. Se il terzo polo si sta organizzando per rinforzare i perimetri e APL in tandem con IOSUD accettano l'invito, vuol dire che per il centro-destra il tempo sarebbe scaduto. Nessuno ci ha contattato, sottolinea Paolo Pellegrino. La stessa Adriana Polibortone, candidata alle primarie del centro-destra contro Paolo Perrone, nei giorni scorsi, aveva detto, senza mezzi termini, che la pazienza non sarebbe durata a lungo. Se i vertici del PDL non si faranno sentire, trarrò le mie conclusioni, aveva dichiarato. E chissà se in questa settimana non ci sarà una nuova inversione di rotta. Il PDL dunque resterebbe isolato con la candidatura di Paolo Perrone alla carica di sindaco. Per il momento il popolo delle libertà non ha mosso alcuna pedina ufficiale, ma non è detto che, con il ritorno dei big sul territorio, come Raffaele Fitto e Alfredo Mantovano, non possano cambiare gli scenari. Grazie a tutti.